A pochi giorni dalla data del 25 marzo in cui si attende e si prega per il prodigio della Sacra Spina è stata presentata ieri nella sala consigliare ad Andria la ricerca studio edita dalla Fondazione Iannuzzi La Sacra Spina di Andria, unicità e prodigio. Autore dell'iniziativa editoriale dall'alto spessore storico rievocativo per l'intera comunità andriese, l'ex senatore Attilio Busseti. Il 25 marzo è prossimo e l'attesa per il prodigio annunciato sale. Ha voluto dedicare a questo evento importante per la fede ma anche per la storia e la cultura popolare di questo territorio una ricerca studio dal titolo La Sacra Spina di Andria, unicità e prodigio, il senatore Attilio Busseti. Un progetto editoriale della Fondazione Iannuzzi con un'analisi rigorosa e meticolosa allargata le vicende di tutte le Sacre Spine presenti sul territorio italiano, sui prodigi collegati sulle spine che furono protagoniste già nel 1932. La spina per Antonomasia rimane quella di Andria, ritenuta la più importante delle Sacre Spine ammesse al culto in forza della ininterrotta puntualità del suo prodigio e per l'imponenza della documentazione disponibile in Curia in Vaticano. Ieri la presentazione del volume di studio in sala consigliare ad Andria. è un evento che parla all'animo dell'uomo ed è un evento che parla anche alla memoria. La Sacra Spina fa parte integrante delle tradizioni più belle della nostra città. La possediamo da data immemorabile ed è prodigiosa ad Andria da data immemorabile. Pensi che il primo miracolo fatto ad Andria dalla Sacra Spina, la sua prima fioritura e il suo primo sanguinamento è avvenuto in 1633. Senatore, come nasce questo libro? Il mio libro nasce da una specie di promessa che io feci a Gesù in un momento molto difficile della mia vita nel quale mi sembrava inadeguato pregare perché non avevo da chiedere niente. Volevo soltanto che mi fosse riconosciuto qualcosa. E allora, siccome non si può pretendere niente da Dio, perché Dio già ci dà tanto senza che abbiamo alcun diritto di pretesa, e allora ho detto tra me stesso, fai qualche cosa per lui, lui è sempre lì ad aspettarci e chissà che questa volta non ti mandi indietro a mani vuote come è stato. La sua riflessione sul 25 di marzo, adesso prossimo, quale sarà al di là della verificarsi o meno di questo prodigio? Il 25 di marzo prossimo, noi prima di tutto speriamo che il Signore ci dia ancora la sua misericordiosa benevolenza e ci faccia assistere ad un altro prodigioso trasformarsi della spina. Io non so se lei ha visto lo spettacolo offerto dalla spina 11 anni fa, qualche cosa che dà, 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 effettivamente emozioni fortissime. Io spero che questa volta ad Andrea questo evento, se si verificherà, sia come una scossa necessaria, perché si riprenda quel cammino di laboriosità operosa, di dignità, di senso della famiglia, di senso dell'onore, che non è che si siano smarriti, ma che vanno sempre riconfermati.